Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo video in cui mi vedrete affrontare l'ardo a spita di portarvi tutte le informazioni delle 3 di ogni conferenza Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, poi Sony e infine Nintendo Allora, partiamo subito dalla prima, io magari qui vi metterò delle note su cui cliccare e andare direttamente alla conferenza che più vi interessa Allora, partiamo subito con la prima, ovvero Microsoft, io vi dirò gli eventi, ciò che è stato svelato, tutte le notizie in ordine cronologico Da qui a qui, da qui a lì, è uguale Allora, partiamo subito con la prima cosa che si è dimostrato, ovvero in un trailer di Metal Gear Solid The Phantom Pain Ovviamente non pensate, mi ricordi, tutto a memoria in ordine cronologico, qui un mio computer con tantissime informazioni Quindi questo primo trailer di alcuni minuti, forse non so nemmeno se di meno di più Comunque alcuni minuti giusto per iniziare, per incominciare a rompere il ghiaccio Poi successivamente, diciamo, si è parlato del fatto che ci sarà una nuova Xbox con un nuovo design sullo stile comunque della nuova Xbox One Quindi qualcosa di molto simile che richiama molto, diciamo, questo design nuovo E inoltre hanno parlato del fatto che il Gold, l'abbonamento per Xbox Live appunto, permetterà di scaricare, ovviamente legalmente, dei giochi gratis E i primi due a quanto pare saranno Assassin's Creed 2 Diciamo il titolo che a quanto pare di Assassin's Creed ha portato delle vere novità nella saga, anche perché appunto è stato il secondo Comunque un titolo che a me personalmente è piaciuto molto E poi Halo 3, nonostante comunque siano due giochi piuttosto vecchiotti Ovviamente per chi non possiede questi giochi è una cosa, diciamo, niente male Poi successivamente è stato mostrato World of Tanks per Xbox 360 A quanto pare un vero e proprio free to play da giocare A me personalmente questo genere non piace Però comunque per gli amanti del genere può essere qualcosa di davvero simpatico Successivamente è stato mostrato poi un trailer di Dark Souls 2 Che a quanto pare non sarà un'esclusiva delle console Microsoft Però è stato un trailer, diciamo, di alcuni minuti Mi è piaciuto abbastanza, anche se non mi ha, diciamo, rimasto così stupefatto Cavolo, sta facendo cadere il microfono Poi successivamente è stato mostrato un altro gioco, ovvero Rise Gli hanno mostrato anche il gameplay Gioco, penso, ambientato in antica Roma Qualcosa del genere Comunque questo è davvero fighissimo Aveva un comparto grafico stupendo E si suppone, anzi non si suppone Sicuramente uscirà solamente per Xbox One Perché aveva un comparto tecnico davvero stupendo Poi successivamente è stato mostrato Killer Instinct Che è un picchiaduro A quanto pare sarà free to play In esclusiva per Xbox One È qualcosa di figo Soprattutto la cosa simpatica è che Con un personaggio si possono fare Cioè dalle combo eccezionali Che durano poi anche alcuni minuti Cioè no, alcuni minuti no Però comunque combo davvero lunghissime Anche di 20-30 hit Poi successivamente Insomniac Games ha presentato Sunset Overdrive Che è una sorta di open world Davvero mi è piaciuto molto Poi è stato presentato un ulteriore trailer Di Forza Motorsport 5 I soliti trailer fighissimi Diciamo in computer grafica Che però diciamo è stato piuttosto carino Diciamo si vede che stanno lavorando in un certo modo Poi è stata presentata sul palco Anche una vera e propria auto Non si è capito il perché Forse diciamo per immedesimare un po' di più Per entrare più nel contesto automobilistico Ma non si sa Comunque il trailer non è stato davvero niente male Poi si passa a Minecraft per Xbox One Infatti quanto pare sarà un'esclusiva E vi è stato un semplice trailer In cui è stato mostrato appunto l'omino di Minecraft Che vagava a mente indietro E poi con sotto la street per Xbox One Poi successivamente è stato presentato Quantum Break Diciamo qualche pilvato Che davvero sta piacendo molto Però purtroppo ancora ora non si riesce a capire bene di cosi tratti Però diciamo è qualcosa di figo Almeno da un punto di vista del comparto tecnico Quindi abbiamo grandi speranze per questa nuova EP E soprattutto per questa esclusiva Xbox One Successivamente è stato presentato Fatemi controllare un attimo Ah una sorta di mini trailer Proprio di alcuni secondi Una ventina a trentina di secondi Di D4 Non so come vogliamo chiamarlo in italiano Che è una sorta di gioco a episodi Con uno stile piuttosto cartunesco E possiamo dire pochissimo Perché non abbiamo visto quasi niente Quindi è inutile sbilanciarci ulteriormente Successivamente poi è stato presentato anche Project Spark Una sorta di Diciamo un po' il gameplay Diciamo Può essere definito come Qualcosa di simile a LittleBigPlanet Ovviamente non conosciamo il gioco E non possiamo sapere se è davvero così Però comunque è qualcosa di davvero simpatico Successivamente poi Vediamo un po' Ah c'è stata È stata mostrata la possibilità Di Diciamo Tramite la dashboard stessa Di registrare alcuni Minuti No minuti no Forse di meno Sì Alcuni secondi di gameplay Quindi non penso È stata integrata la possibilità Di registrare gameplay interi Sui quali fare commentary Però una cosa carina È che si poteva Fare un vero e proprio streaming Durante il gioco E immagino anche commentare E tutti Questo tramite Twitch E tutti gli utenti a fianco Potevano Istantaneamente Scrivere dei commenti Questo magari per noi Appunto Youtuber Può essere una cosa Davvero davvero carina Successivamente poi Vabbè Viste un annuncio Che Microsoft Sostituirà I Microsoft Points Con i soldi veri Quindi con euro Sterline E cose varie Questa Diciamo Una cosa Secondo me Che non è una grande notizia Potevano farlo Anche in precedenza Senza presentarlo Alle tre Magari Lì si sono sentiti In vena Di presentare Tutti i cambiamenti Riguardo appunto Xbox Xbox One Quindi Diciamo Va bene così Era forse ora Poi è stato presentato Il gameplay Di un altro gioco Ovvero Crimson Dragon Che in realtà Non mi è piaciuto Più di tanto Diciamo E sono stati E' stato Potuto presentare Questo gameplay Di giusto Un paio di minuti Forse Sì Ma niente di particolare Almeno a me Non è piaciuto Più di tanto Poi successivamente Un gameplay Invece Che mi è piaciuto Molto è stato quello Di Dead Rising 3 Infatti è piaciuto Anche molto Al pubblico Comunque Diciamo Si si mantiene Un pochettino Lo stile Di Dead Rising Sempre il fatto Di combinare Diverse armi Però forse Qui sembra Ci sia Uno stile Più serio Rispetto Diciamo Anche ad esempio Dead Rising 2 Comunque Diciamo Sembra davvero figo Aspettiamo Ovviamente Ulteriori gameplay Trailer Informazioni Per poterci Sbilanciare Di più Però comunque È stato davvero Fighissimo E abbiamo Buone speranze Per questo nuovo Capitolo Di Dead Rising Poi Un altro titolo Che è stato Molto acclamato È stato The Witcher 3 Scusatemi Uno poi Cerca di parlare Velocemente Quindi si impappina Anche Comunque Non è stato mostrato Mi sembra Poi chissà che cosa Però comunque Quel poco Che è stato mostrato È piaciuto molto Appunto Al pubblico stesso Poi Si Si è parlato Anche Di Battlefield 4 Di cui è stato mostrato Anche un gameplay Se non sbaglio Sì Ora Sto facendo Forse un po' Anche di confusione Con la conferenza EA Perché appunto Questo gioco È stato mostrato Anche nella conferenza EA Perché appunto È dell'Electronic Arts Comunque Nel complesso Possiamo dire Che a me è piaciuto Molto Però comunque Almeno Dal computer Non si notava Poi una gran differenza Rispetto a Battlefield 3 Ovviamente Cioè Pensate che lo streaming Non si vedeva Nemmeno poi Tanto bene Quindi È ovvio Che una volta Che avremo il gioco In mano E potremmo davvero Giocarci Le differenze Lì si noteranno Poi È stato mostrato Anche un mini trailer Diciamo Un trailer Velocissimo Di Below Che dovrebbe essere Appunto un'altra Esclusiva Di Microsoft E poi Con un trailer Piuttosto particolare Qua c'è Che mostrava Un tizio Con addosso Diciamo Un semplice mantello Un cappuccio No Non è Assassin's Creed Vagava in un deserto E All'improvviso È sbocato dal terreno Un mostro gigantesco Che appunto Apre le ali Un volatile Tecnologico E quindi L'impatto Non da durto Fa Togliere il cappello A questo personale Il cappello No Il Diciamo appunto Il cappuccio Al personaggio In realtà Si rivela essere Il protagonista Di Halo Master Chief Quindi Avremo sicuramente Si pensa Sì Nel 2014 Si pensa Forse c'era scritto Non lo ricordo nemmeno Il 2014 Quindi sicuramente Arriverà un nuovo capitolo Di Halo Quindi diciamo I fan Di questa esclusiva Microsoft Sicuramente saranno Contentissimi di ciò Successivamente poi Siamo arrivati Nelle ultime fasi Di questa conferenza Ed è stato Diciamo Si è annunciato Il vero e proprio Prezzo Finalmente Della console Che sarà Di 500 euro Qui appunto In Europa E la console Uscirà A novembre Quindi diciamo Nel periodo Che si avvicinano Le festività Natalizie Quindi di Magari qualcuno Potrebbe approfittare Appunto Per farsela Regalare Comunque Successivamente È stato mostrato Come ultimo gameplay Per quanto riguarda La conferenza A Microsoft Il Diciamo Un gioco Con motore Grafico Di valve Chiamato Titanfall Roba davvero Fighissima Con dei robottoni Giganti Però non sono Robottoni Che si muovono Lenti No E diciamo Sono velocissimi Poi c'è È un fps Scusatemi Non l'ho detto All'inizio Era la prima cosa Che avrei dovuto Dovevo dirvi Ragazzi Parlando velocissimo Mi sta settando Tutta la gola Sto morendo Ma per voi Questo è d'altro Comunque Come dicevo È un fps Davvero fighissimo Pensate che il personaggio Mentre spara Può addirittura Fare parkour Saltare da un palazzo All'altro Vabbè Come Crysis Tra l'altro Non è una novità Però Il fatto di poter Camminare addirittura Sulle pareti Stile Prince of Persia Mentre si spara E si salta È qualcosa Comunque Di davvero Fighissimo Comunque Con ciò Si conclude La conferenza Microsoft Nel complesso Di per sé È stata Una bella conferenza Nonostante Magari Qualcuno Come ho visto Diciamo Un po' in giro Sul web È rimasto Scontento Ad alcune cose Comunque Nel complesso A me è piaciuta Senza contare Però Le conferenze Che appunto Sarebbero venute Dopo Infatti Quella di Sony Di cui parleremo Successivamente Riuscita A un po' Mettere da parte Diciamo L'hype Che c'era Per la console Microsoft Comunque Di ciò Parleremo Dopo Ora Ci concentreremo Sulla conferenza EA Di Grazie a tutti